Buongiorno 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 C'è stato l'intervento di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, appartenente al Movimento 5 Stelle, che è intervenuto al Five Festival a Villa Sabucchi, subito al voto dopo la vittoria al referendum, ha detto ai giornalisti. E poi sentiremo più avanti l'intervista nella seconda parte di Mattino 6, realizzata proprio ieri sera da Francesca Romana Testi. Andiamo avanti con la lettura del centro, cambiamo edizione provinciale, questa è la prima di Chieti Lanciano Vasto, ritroviamo ovviamente, come vi ho anticipato in precedenza, tutta la titolazione relativa alla morte di Carlo Azzeglio Ciampi. Poi nel taglio alto, una notizia che abbiamo visto anche nelle cronache di Pescara, truffe e abuso, rettore DG Indagati, Ateneo, inchiesta su D'Iglio e Del Vecchio per la nomina del capo dell'ufficio legale. Andiamo a vedere meglio il direttore generale Filippo Del Vecchio, il rettore Carmine D'Iglio e il responsabile dell'ufficio legale dell'Ateneo, Antonio D'Antonio, sono finiti sotto inchiesta. Sui tre indaga la guardia di finanze, reati di truffe e abuso che il magistrato Giancarlo Ciani contesta loro, restano delle ipotesi, tutte ancora da dimostrare, che ruotano attorno alla nomina di D'Antonio a capo dell'ufficio legale dell'università. I fatti risalgono al 2014, quando a D'Antonio, insegnanti in una scuola di Lanciano, vennero affidati dall'Ateneo consulenze esterne per 94 mila euro. L'anno dopo, grazie alla mobilità, gli è stato affidato l'ufficio legale dell'università, ma una lettera anonima ha denunciato i fatti finiti al vaglio della magistratura. Nelle cronache, a caso, le aziende in crisi chiude progetto meccanica dopo la cometa, dunque chiude un altro stabilimento metalmeccanico con 23 operai. Le due aziende facevano parte della sub-fornitura di Onda Italia, la multinazionale delle due ruote che ha sede anche in Val di Sangro. La Wilm chiede aiuto proprio alla Onda. E poi, un mese e venti giorni, fermò i lavori assessore condannato a Lanciano. Andiamo avanti con la lettura delle cronache della pagina di Lanciano Vasto Chieti. L'evento religioso a Chieti, in cattedrale, la grande messa con gli ortodossi. Nel taglio basso, il dramma familiare, violenta la moglie incinta, lei lo denuncia ai carabinieri e lo fa subito arrestare. E ancora, si parte male, l'asilo resta senza maestre, le mamme in rivolta, sempre dalle cronache di Chieti. Ad Ortona, via i lavori sulla strada, cambia la viabilità. Cambiamo anche noi edizione provinciale, questa è la prima dell'edizione terramana. Nel taglio alto, il Braga dice sì al Parco della Scienza, non c'erano alternative. Azienda americana vuole risanare la storica sede di Piazza Verdi, dopo le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi, con il comitato del Braga, che aveva così rifiutato la proposta della sede alternativa al Parco della Scienza. Invece, c'è stata poi la decisione del CDA, assieme all'amministrazione, di spostare proprio nel Parco della Scienza, al momento, le elezioni dell'Istituto Musicale. La storica sede di Piazza Verdi è stata dichiarata inagibile e necessita di lavori di adeguamento. E poi, nelle croneche, la vittima di Cerminiano in L'Aquila morì dopo il trapianto assolti sei medici. Firmato il provvedimento del giudice dell'Aquila, dopo le richieste di proscioglimento avanzate sia dalla Procura che dai difensori dei medici. L'uomo, 56 anni, venne operato due volte all'ospedale San Salvatore per un trapianto di rene. In Teramo, il terremoto, sindaci e imprese, distrutta l'economia. E ancora, in provincia, uffici postali, allarme e bomba a cascata. Nel taglio basso, la Lega Pro, Biancorossi a caccia del rilancio. Nofri cerca il primo acuto, il teramo di scena a Sant'Arcangelo. Il tecnico che ha preso il posto di Lamberto Zauli esonerato e al debutto proprio contro la ex squadra di Zauli. E poi, unioni civili, Orlando e Bruno, finalmente sposi per quanto riguarda le unioni civili. Adesso la prima dell'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. L'Aquila bene non paga le bollette. Questo è il titolo che troviamo nel taglio alto. Cialente all'attacco sulle utenze del piano case. Mancano all'appello 5 milioni. E poi, nelle cronache, pugni a scuola, bullismo, in sei denunciati per il pestaggio. Ci sono sei giovani denunciati dalla polizia per atti di bullismo ai danni di due sedicenni aquilani picchiati davanti al liceo musicale. L'altra mattina, conclusi, gli interrogatori di tutte le otto persone coinvolte nella vicenda e dei quattro testimoni spuntano debiti per droga. In Avezzano, il luco dei Marsi, folgorata in casa, la salva il figlio di quattro anni e poi in L'Aquila, dopo un trapianto, abbiamo visto anche in precedenza, medici prosciolti per la morte del paziente. Nel taglio basso, trasloco del modulo provvisorio all'unico stretto a emigrare da Pacentro a Popoli, l'ha deciso il sindaco per la sicurezza e poi il calcio di serie D, L'Aquila, tifoseria in fermento per Rieti. Andiamo invece a leggere la prima pagina del messaggero Abruzzo. Muore mentre fa jogging. Pescara Enzo Iervasi di Villaraspa, stroncato da un infarto sulla riviera, aveva 55 anni, il malore davanti a decine di persone all'altezza dello Sciale Istria, passanti sotto shock. E poi ritroviamo la notizia che riguarda la guerra sugli alberi da tagliare a Pescara. Il sindaco sono stati abbattuti solo quelli ammalati, ma continuano le proteste degli ambientalisti. E poi a centropagina, Abruzzo in lutto per Ciampi, il presidente era uno di noi, la fuga da Salò, il rifugio di Scanno, gli ispiratori della carta e poi il terremoto forte. Il legame che Carlo Azzeglio Ciampi aveva con l'Abruzzo si legge proprio nell'articolo di Patrizio Iavarone che ricorda sia i trascorsi da giovane a Scanno a Rocca di Mezzo, sia le varie visite che ci sono state nella nostra regione quando Ciampi era al Quirinale. E poi lo sport nella fotonotizia anticipo all'Olimpico, Pescara all'assalto della Lazio, questa sera alle 18, il match di anticipo del campionato di Serie A. Nel di spalla, Mare e Giocattoli, il primo sorriso del bambino sfregiato dalla Iena, è una notizia che arriva da Lanciano. E poi nel taglio basso, la leadership Pescara Ancona, Rebus del Porto. Andiamo a vedere invece nel taglio alto adesso, Guerra dell'acqua, Lolli, Santa Croce, ci faccio entrare o chiederemo aiuto ai carabinieri. E poi ad Avezzano la multinazionale Vesuvius chiude licenze a 90 operai. A Chieti sequestra la moglie incinta e la violenta per due giorni. La donna privata del cellulare, minacciata con un coltello puntato alla gola, arrivano i militari dell'arma, avvertiti dai vicini. L'uomo è finito in manette. Andiamo a vedere adesso la città, anche quest'altra prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo. L'uomo allarme chiama allarme bomba, evacuati gli uffici postali di Teramo, Atri e Sant'Egidio, colpa di un guasto avvenuto a Pescara. E poi nel taglio alto, Atri tagliata l'assistenza a 18 studenti disabili, l'assessore Ferretti nessun avviso dalla regione. A Giulia Nova mai espresso l'ok sul progetto di Marozzi. A Tortoreto Marconi prova a ricompattare il centrodestra. Di spalla questura di Teramo, Capasso promosso alla squadra mobile dell'Aquila. E poi Teramo, scuole sicure, oggi sit-in in municipio. Sotto la fotonotizia che vedremo tra poco, il Braga va al Parco della Scienza, sempre per quanto riguarda le scuole. Dopo mesi di polemiche, accettata l'unica scelta disponibile. Nel taglio basso a Corropoli, Ripoli, scavi archeologici fermi da due anni e progetti di ricerca al palo. E come detto, arriviamo a centropagina con la fotonotizia che riguarda la Lega Pro. Il Teramo si ricomincia da zero. Sant'Arcangelo, Teramo di nuovo in campo dopo il Repulisti, voluto dal patron Campitelli e dalla società, via DS Lupo e allenatore Zauli. E poi c'è il punto sul Teramo di Federico De Carolis, attributi calcistici. Il titolo è abbastanza eloquente sull'esortazione che arriva per quanto riguarda il Teramo a svegliarsi e a cercare di conquistare i primi tre punti della stagione. Lasciamo adesso i quotidiani regionali. Apriamo la pagina dedicata al nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente in primo piano la morte di Carlo Azzelio Ciampi, il presidente degli italiani, chiamo l'Europa. E c'è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, l'orgoglio di servire il suo Paese. Serietà e competenza sono queste insomma le caratteristiche che si ricorderanno. Per quanto riguarda Carlo Azzelio Ciampi, presidente della Repubblica. E poi a centropagina, strappo con Berlino e Parigi, il vertice Merkel e Hollande chiudono da soli. Il premier, la Germania non rispetta le regole sul commercio, divisi su migranti e crescita. Renzi sfida l'asse franco-tedesco e l'accordo non c'è. Repubblica, rottura su migranti e austerity. Renzi no a Merkel e Hollande. Scontro al vertice di Bratislava. La cancelliera dice situazione critica per l'Europa, serve l'unità. È chiaro che però bisogna mettersi attorno a un tavolo e cercare di trovare una soluzione. A centropagina poi il ricordo di Carlo Azzelio Ciampi, l'orgoglio di essere italiano. La stampa, l'Europa, lo strappo di Renzi. A Bratislava, il premier diserta la conferenza stampa, disaccordo su crescita in migranti. La replica non era stato invitato. Al summit sfida Merkel e Hollande non abbiamo la stessa idea dell'unione. E poi a centropagina, Dio Azzampi, il presidente di tutti, aveva 95 anni. Il capo del governo ha servito il paese e Salvini ha commentato che è stato un traditore della patria riferendosi all'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea. Un progetto portato avanti anche e soprattutto da Carlo Azzelio Ciampi. Sul messaggero, il presidente traghettatore, addio a Ciampi, l'ex capo dello Stato, è morto a 95 anni, riscoprì la patria e restituì orgoglio all'Italia lunedì lutto nazionale e funerali solo privati. E poi ritroviamo ancora la notizia che riguarda il vertice di Bratislava. Strappo all'Unione Europea, il no di Renzi a Merkel e Hollande. Il premier dice che non c'è intesa su crescita e immigrazione, basta, mance, stop al fiscal compact. E poi il caso dei giochi della candidatura di Roma ai giochi olimpici, la raggia al bivio, obbedire ai diktat di partito o tutelare Roma. Il sole 24 ore, il titolo Ciao Carlo Azzelio. E ovviamente ci sono poi tutti gli articoli di commento che ricordano la figura istituzionale e non solo del presidente della Repubblica Ciampi scomparso ieri. L'unità Viva Ciampi su questa foto che lo ritrae mentre va in bicicletta, così lo ricorda il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. E poi nel taglio basso Renzi attacca un vertice deludente, l'Europa rischia. Ovviamente si tratta del vertice di Bratislava. Il manifesto, la buona carta sulla foto di Ciampi che saluta la folla nella parata del 2 giugno, festa della Repubblica, che fu proprio Ciampi a voler riportare agli antichi fasti. La lunga vita di Carlo Azzelio Ciampi, unica tessera a quella del Partito d'Azione, una carriera politica nelle massime istituzioni del paese fino al Quirinale, quasi sempre in difesa della Costituzione. Qui si capisce perché il titolo la buona carta. Tra le note stonate, l'ok alla guerra in Kosovo. E poi nel taglio alto Renzi, tra parentesi ignorato, rompe con Merkel e Hollande. Il tempo, c'è ovviamente anche qui l'Italia che dà l'addio a Ciampi, scrive il tempo. C'è l'intervento di Marcello Veneziani che dice cercansi necrologi onesti. E poi la lettera di Vittorio Emanuele quando tornai al Colle, il ricordo dell'incontro con Ciampi. Nel taglio alto al Quirinale, le accuse dei mandarini, la lettera dei dirigenti generali a Mattarella, intervista a Mirabelli della Corte Costituzionale. Poi a centropagina, caccia i 400 lingotti del Cardinale Misterioso. L'inchiesta su mafia, agenti segreti, massoni e vaticano. Ecco gli incontri per squagliare e vendere l'oro dei fedeli. Andiamo avanti su Libero. Belle parole, aspettiamo i fatti. Renzi snobba l'Europa, era ora il premier di CERT alla conferenza stampa dell'Unione Europea e accusa la Germania non rispetta le regole sugli immigrati e con l'austerity ha fatto danni. Bene, ma non deve essere la polemica di un giorno. Rottami la casta di Bruxelles. Dunque Libero che appoggia questa mini rivolta dell'Italia contro l'asse franco-tedesco. E poi ritroviamo ancora la morte di Ciampi. Tutto fumo, niente apposto è l'articolo di Renato Farina. E poi il disastro euro alla sua faccia è l'articolo di Franco Bechis che riassume un po' le critiche arrivate da una parte minoritaria della politica italiana che fa riferimento sostanzialmente alle posizioni della Lega Nord. Abbiamo citato in precedenza il leader della Lega Salvini che ha bollato il presidente merito scomparso ieri come un traditore della Repubblica proprio per il suo spirito europeista e per aver agevolato l'ingresso dell'Italia nell'euro. Il giornale. La truffa tedesca. La Merkel affonda banche, borse e anche l'Italia. Il governo usa multa per 14 miliardi. I maestrini, parliamo per maestrini si intende la Germania ma la multa riguarda la Deutsche Bank che giocavano con i nostri soldi. Si torna sempre alla questione dei mutui subprime. E poi c'è stata ieri la convention di Parisi. Parisi scende in campo, Toti e Salvini lo incalzano per quanto riguarda i movimenti all'interno del centrodestra. E poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti Morto Ciampi, l'uomo che fece e inguaiò il paese. Il riferimento ancora una volta è all'entrata nell'euro. Avvenire. Un grande europeista, una piccola unione. Vengono messi a confronto i due fatti più importanti di ieri. Cioè la morte di Carlo Azzelio Ciampi e il vertice di Bratislava. Morto a 95 anni il presidente emerito. Fu il presidente di tutti. Portò l'Italia nell'euro. La UE a 27 intanto già litica e si divide. E poi c'è Prodi che dice mancano i leader come lui. Questo è il ricordo di Romano Prodi. Il mattino, orgoglio italiano sulla foto del presidente Ciampi. e le sue ultime volontà no ai funerali di Stato. Addio a Ciampi, da Banca Italia al Colle. Portò il paese nell'euro. Poi c'è l'inchiesta sulla notizia della donna che si è tolta la vita per le conseguenze di aver diffuso sulla rete un video dai contenuti pornografici. Video di Tiziana, mercato del porno nel mirino dei PM. Andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno. L'euro strappo di Renzi, accuse a Francia e Germania sui migranti e rigore finanziario. I sacrifici sono un errore. La Merkel non rispetta le regole. Poi l'addio a Ciampi, l'uomo delle due repubbliche più vicino a Sud e Puglia. Sul secolo XIX, il banchiere che salvò l'Italia. Così lo ricorda il giornale genovese Carlo Azzilio Ciampi. L'intervista a Prodi aveva un solo obiettivo, entrare nell'euro. Il commento, l'ultimo di una classe dirigente poi estinta e poi ancora le visite. Il grande affetto per i Liguri. Voi siete un esempio. Ciampi che era livornese. Poi Renzi sfida Merkel e Hollande. Abbiamo già visto in precedenza questa notizia. Il gazzettino, migranti e austerità. Il no di Renzi. Questa è la lettura del quotidiano del Nord-Est che poi fa un focus anche su Veneto Banca. Perdite a quota 259 milioni. Il peggio però dovrebbe essere passato. Noi adesso apriamo rapidamente lo spazio dedicato ai giornali sportivi nazionali prima di passare al meteo. Guardiamo la prima della Gazzetta dello Sport. Con Bacca c'è il Milan. Ieri si è giocato l'anticipo tra Milan e Sampdoria. Genova un successo che può segnare la svolta. Samp da corsa. Donnarumma la ferma. Il colombiano entra al 64esimo e fa la differenza. Infatti Bacca era partito dalla panchina. titolare Gianluca Lapadula che i tifosi del Pescara ricordano bene. Bomber della promozione in Serie A lo scorso anno per il Delfino. E poi Inter de Beers sotto accusa che polveriera stigliata tohir. E adesso c'è la Juventus. Nel taglio basso il Dream Team di Zanardoro non ha sinfonia azzurra alla Paralimpiade. Altro trionfo nell'handbike con Alex Podestà e Mazzone. Corriere dello Sport adesso. Bacca il Milan svolta. Il colombiano entra e segna. Samp battuta per 1-0. Il gol nel finale dove aveva preso anche un palo. Montella sorride. Molti gli errori dell'arbitro. Arbitraggio contestato durante la partita. Nel taglio alto Inter caso De Berre già sotto esame. La società lo difende ma non può più sbagliare. Torna Pjanic. La Juve punta sulla qualità. Legri cambia il centrocampo per quanto riguarda la super sfida fra Inter e Juventus. Di spalla le partite di oggi. il Napoli re del gol. Ora sogna il sorpasso. Sarri con il Bologna per restare almeno un'auta in vetta. La Lazio invece sfida il Pescara di Oddo. E poi andiamo avanti su tutto sport. Frank Tiratori. Domani Inter-Juve. C'è Pjanic per innescare il super attacco che può affondare De Berre già a rischio. E poi Leonardo la gioca per noi. Occhio a Icardi. Per quanto riguarda il Torino. Euroheart qui si vola e il Filadelfia lo aspetta. E poi la partita di ieri sera. Il Milan ne dice grazie a Bacca e all'arbitro Rabbia Sampdoria. Questo per quanto riguarda i quotidiani sportivi nazionali. Adesso passiamo al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il meteo del weekend a te. Allora diciamo che la giornata odierna sarà caratterizzata da un tempo decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto nella giornata di ieri. Ma si tratterà di una fase temporanea. E se da un lato nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del territorio regionale ad eccezione delle zone montuose sul settore occidentale dove saranno presenti ancora degli annuvolamenti e soffieranno venti moderati dai quadranti occidentali a partire dal pomeriggio ci potrebbero essere degli annuvolamenti piuttosto consistenti sempre sulle zone montuose ma con qualche sconfinamento anche verso il settore orientale non si escude qualche piovasco sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante triatico. Per il resto continuerà a sprendere il sole su lungo la fascia costiera con qualche annuvolamento ma attenzione perché come avevamo già annunciato nei giorni scorsi a partire dalla tarda serata e in nottate è previsto un graduale aumento della nuvolosità a partire ancora una volta dalla Marsica e dal Milano perché giungerà una nuova perturbazione che favorirà non solo un peggioramento del tempo ma una situazione favorevole a annuvolamenti e precipitazioni anche nei primi giorni della prossima settimana perché questo sistema nuvoloso pian piano si adagerà sulle regioni centro-meridionali e inizialmente sarà preceduta da correnti meridionali ma a partire dalla seconda parte della giornata di domenica pian piano assisteremo comunque a una graduale diminuzione delle temperature un po' su tutto il territorio regionale. Quindi la mattinata di domenica vedrà un cielo nuvoloso, molto nuvoloso su gran parte del territorio regionale più chiuso sul settore occidentale dove ci saranno delle piogge localmente dei temporali in estensione verso il settore orientale. Nel pomeriggio è prevista una sopravvista schiarita, dal pomeriggio sera saranno possibili schiarite lungo la fascia orientale della nostra regione mentre continueranno a manifestarsi annuvolamenti sulle zone montuose, sulla Marsica e nell'Aquilano con possibilità di precipitazioni. Poi come annunciato poco fa nei primi giorni della prossima settimana la nostra regione continuerà a essere influenzata da questa perturbazione grazie anche all'arrivo di correnti fresche provenienti dai quadranti settentrionali e quindi avremo maggiori probabilità di fenomeni lungo la fascia orientale della nostra regione sia nella giornata di lunedì sia nella giornata di martedì. Insomma un tempo che non tenderà a guarire neanche nei prossimi giorni. Grazie Giovanni per averci illustrato anche il meteo nelle prossime ore. Prima di salutarci ricordiamo i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo. Eccola qui la pagina di Abruzzo Meteo messa in onda dalla regia di Claudio Di Giacomo e poi le due pagine Facebook, la pagina di Abruzzo Meteo la vediamo in questo istante e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora a te Giovanni e ti auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi prima di salutarci facciamo gli auguri a tutti quanti si chiamano Roberto perché oggi la chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della chiesa, nato il 4 ottobre del 1542. È stato tra l'altro anche uno scrittore, scrisse bene 31 opere tra le quali spiccano maggiormente le controversie, il catechismo, le ascensioni spirituali della mente in Dio e l'arte del bel morire. Per questo Papa Pio XI lo dichiarò dottore della chiesa. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte del programma. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo all'interno della nostra regione, torniamo sui quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro. L'incontro a Pescara di Maio si al voto dopo la vittoria al referendum. Il leader dei grillini galvanizza la base, la festa dei 5 stelle a Villa Sabucchi, basta governi tecnici a Livorno. Abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza. Questi alcuni passaggi di Di Maio che abbiamo intervistato con Francesca Romanatesti. Arrivo a Pescara, il tempo non è dei migliori, però ci sono i sostenitori. Questo è un momento delicato. Da un lato quello che è ovviamente la situazione nazionale, dall'altro c'è un referendum. Il referendum è il prossimo nostro obiettivo. I cittadini italiani ci pagano per occuparci dei loro problemi e in questo momento storico per riuscire ad occuparci dei loro problemi dobbiamo votare no. Votare no significa votare il cambiamento, significa permettere a una maggioranza eletta in futuro di poter abolire Equitalia, di poter fare un reddito di cittadinanza, una serie di legge anticorruzione. Se dovesse vincere il sì non ci sarebbe più una maggioranza votata dal popolo che possa modificare le leggi vergogna che hanno fatto Renzi e Berlusconi negli ultimi 15 anni. È chiaro che la campagna referendaria si dovrà fare necessariamente sul merito della riforma, spiegare ai cittadini il pericolo di questa riforma e anche l'inutilità da alcuni punti di vista. La questione dei sondaggi però non mi esalta, io non credo ai sondaggi soprattutto quando vanno bene, quindi noi adesso andiamo avanti con la campagna, votiamo no e poi andiamo al governo di questo paese. I prossimi obiettivi del Movimento 5 Stelle da focalizzare sono questi, dobbiamo far vincere il no e dopo il no mandare questo paese a votare il prima possibile e mandare a casa Renzi alle prossime elezioni politiche. Matteo Renzi non ha più il consenso degli italiani e non ha un'autorevolezza a livello internazionale, quindi o chiede aiuto agli altri stati per restare a mantenere lo status quo oppure si vede scavalcare più volte come è accaduto oggi nel vertice UE in cui abbiamo visto ancora una volta Hollande e Merkel coalizzarsi con le loro assurde teorie economiche che ancora una volta danneggeranno l'Italia. Quindi andiamo avanti ma dobbiamo spiegare agli italiani che cosa c'è scritto in questa riforma. Ancora molti non lo sanno anche perché, diciamoci la verità, gli italiani in questo momento storico per i problemi che hanno, ma sapete quanto gliene frega di modificare la Costituzione. È tornata la pace al Movimento 5 Stelle? Io penso che il Movimento 5 Stelle sia sempre stato in pace. L'unica cosa che mi va di sottolineare è che gli italiani ci pagano lo stipendio per occuparsi dei loro problemi. Poi nel tempo libero affronteremo anche le questioni del Movimento 5 Stelle. Grazie. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di Sanità De Filippo, Sanità Abruzzo, Zuccatelli, sbagli da non ripetere per quanto riguarda la fine del commissariamento. Notizia che ritroviamo anche sul messaggero. Andiamo infatti a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. Meno tasse, meno ticket, meno tagli. Il sottosegretario De Filippo sulla sanità dice ricadute importanti per l'Abruzzo. L'assessore Palucci fa già i calcoli sui risparmi possibili e l'aumento dei servizi grazie all'uscita dal commissariamento. Andiamo a vedere proprio nella conferenza stampa di ieri e andiamo ad ascoltare l'assessore Palucci in questa intervista. Il risultato di oggi è anche una conseguenza della passata governance, lo possiamo dire. Come sarà ora, le chiedo, la sanità di domani? Intanto noi abbiamo lavorato molto in questi due anni. Pensare che due anni fa si poteva uscire è sbagliato perché in questi due anni noi abbiamo fatto il registro dei tumori, un piano sanitario, il riordino della rete ospedaliere, il riordino dei punti nascita investendo sulla rete Stam e Sten e su tutti i materni infantili che sono stati quasi tutti ristrutturati. Abbiamo investito sul territorio, abbiamo un piano della prevenzione che prima non c'era e la prevenzione presenta tanti e corposi investimenti. Abbiamo avuto premialità per 140 milioni di Euro dal Governo grazie a questi adempimenti, per cui abbiamo lavorato tantissimo per ottenere questo risultato in questi 24 mesi. Il futuro è mettere al centro il cittadino ancora di più. Il futuro è chiedere agli operatori, agli infermieri, alle osse, ai medici di prendersi in carico e in cura un lungo percorso di assistenza e poi investire sul CUP, investire sull'ADI, sulle assistenze domiciliari perché lì l'operatore entra dentro le case e dà un'assistenza molto lunga ai cittadini. Nonostante tutto quello che ha detto del lavoro svolto, in questi mesi ci sono state polemiche sulla questione tagli alla sanità. Oggi in vista dell'uscita del commissariamento come spegne queste polemiche? Perché intanto non è vero che ci sono stati tagli, ovviamente il gioco della strumentalizzazione in sanità produce questo, ma noi abbiamo speso 50 milioni di Euro in più all'anno, soltanto prendendoci in carico per esempio le persone malate di epatite C, garantendo i nuovi farmaci e salvando tante vite, abbiamo speso tantissimo. Abbiamo investito sul percorso nascita, che non è vero che è stato un taglio, ma ci sono stati investimenti per oltre 15 milioni di Euro sulle nuove sale parto. Abbiamo fatto un grande lavoro di riorganizzazione di messa in sicurezza e di qualità dell'assistenza. Un commento sulla regione Abruzzo rispetto alle altre regioni sulla sanità? Il commento questa volta non è né politico né ideologico né formale, è sostanziale perché gli atti che abbiamo definito insieme, che la conferenza Stato-Regione e che il Consiglio del Ministro ha approvato, sono emblematicamente la prova di un ottimo lavoro che è stato fatto nell'ultimo biennio e che consente a questa regione di uscire dopo quasi dieci anni da una lunga fase di complesse vicende finanziarie, organizzative e operative che hanno determinato effetti direi negativi non nella regione, ma hanno provocato in questi anni anche grandissime difficoltà, immagino, tra operatori e cittadini. Oggi c'è una speranza, un tempo nuovo e quindi il commento sta negli atti nella sostanza. Torniamo sulle pagine del Centro Cattolici Ortodossi Uniti a Francavilla, la Commissione per il Dialogo Teologico. Si è aperta ieri proprio questa commissione tra i due maggiori culti cristiani. E poi sempre dalle pagine Abruzzo Turismo, tutti insieme appassionatamente, l'Abruzzo prova a fare squadra nell'open day dal 26 ottobre al 2 di novembre, chi ci sarà con quali contributi dalla regione, vedete anche questa tabella riassuntiva. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro e adesso passiamo alle pagine di Pescara. La tragedia muore a 55 anni correndo sulla riviera Enzo Iervasi di Spoltore, si è accasciato all'improvviso inutili soccorsi in passato, aveva accusato problemi al cuore. L'uomo si è sentito male davanti a due ragazzini, ha cominciato a toccarsi il petto ed è stramazzato al suolo. Nel taglio basso cinque morti improvvise in pochi mesi, a luglio scomparsi il rabbuffo dell'orsa maggiore e un trentenne di Cepagatti che stava per sposarsi. Dunque questa è un po' la situazione. Torniamo a parlare di sanità adesso. Radioterapia nel caos, sempre da Pescara, stop alle cure di notte in lista, 220 pazienti finiti i fondi per gli straordinari, il primario attese di quattro mesi. E poi il nuovo pronto soccorso lunedì partono i lavori dopo 12 anni di promesse e rinvii. Andiamo avanti. Autoparcheggiate sotto gli alberi per bloccare i tagli. Maltempo e soste ad hoc bloccano i lavori in via Scarfoglio. Alessandrini sono pronto a chiarire tutto in procura per quanto riguarda quella che è stata un po' definita la guerra degli alberi a Pescara con polemiche sui tagli portati avanti dall'amministrazione sollevati dal coordinamento Salviamo gli alberi che racchiude un po' tutte le associazioni ambientaliste della città. Poi si torna a parlare di ACA, le candidature al nuovo CDA, via le domande fino al 26 di settembre. Andiamo avanti. Il carabiniere ucciso nel 1996. Parliamo di Marino di Restra. Grazie di cuore Pescara non ci ha abbandonato. La vedova del maresciallo alla cerimonia per i 20 anni della morte è svelato un monumento nella caserma provinciale dedicato all'eroe dell'arma. Vedete proprio il monumento nella fotografia. Andiamo avanti con la lettura delle pagine di Pescara. Oggi e domani Vela, 60 imbarcazioni si sfidano al Marina nella regata Optimist. A Francavilla ha inaugurato il bar Doppia Chance e poi Movide, Caffè Letterario, Giambo e Fabrica del Ritmo per quanto riguarda le attività ludiche che si possono svolgere nell'area metropolitana. Poi le pagine proprio dell'area metropolitana di Francavilla. Strada a rischio incidenti all'ingresso della A14 sale. La protesta di residenti ed automobilisti per le condizioni della carreggiata di fronte allo svincolo Francavilla-Pescara Sud. La provinciale 23 è sprofondata. è sempre da Francavilla. Nuovo impianto sportivo nel polo di Valle Anzuca. Sarà inaugurato domani. Andiamo adesso a Montesilvano. Furto all'Eurospin. Ladro acciuffato di notte con la spesa riesce a eludere il sistema di allarme e porta via la merce su due carrelli ma all'uscita del parcheggio i carabinieri lo bloccano. L'uomo notato mentre attraversava Corso Umberto con l'area furtiva è stato fermato per un controllo. Dopo l'arresto è subito tornato in libertà. Poi l'indagine partita da Firenze. Prostituzione. Fermato in hotel un giovane immigrato nigeriano. Incendio notturno. Fuoco alla stella Maris per una lite. Le fiamme sono partite da un materasso. In fuga gli occupanti. Nel taglio basso. Gran musica con i maestri delle percussioni. Festival concorso internazionale a Serena Majestic con 140 concorrenti provenienti da 35 paesi. Andiamo avanti. Firme false sulle multe. Il comune parte l'ESA. Spoltore. Il comandante della municipale Panfilo Dorazio chiarisce la posizione dell'ente sulla contestazione di un cittadino approdata in tribunale. A Città Sant'Angelo un libro sui luoghi dell'Arcangelo Michele. Poi Banda Loca riparte a ritmo di merenghe e balli caraibici e nel taglio basso uva e per tono. Tre giorni di festa a Città Sant'Angelo. La pagina di penne popoli dell'Alta Val Pescara. Napoletano delle PD. Ora la regione sospende i decreti sull'ospedale. L'uscita dal commissariamento della sanità riapre il braccio di ferro sui nuovi assetti del San Massimo. SOS ad Alfonso e al manager Mancini compromessa l'assistenza nell'area vestina. A Popoli si valuta di presentare un ricorso al TAR contro il piano di ridimensionamento dell'ospedale. E poi liturgia ortodossa al Volto Santo. Abbiamo visto già in precedenza la notizia. E nel taglio basso ospitata a Popoli alcune classi di pacentro per le scuole a rischio dopo il sisma del 24 di agosto. Adesso passiamo sul messaggero. Andiamo a leggere anche le altre notizie dalle altre province. Iniziamo dalla provincia di Chieti e da Chieti capoluogo. Sequestra violente e minaccia la moglie incinta e viene arrestato. Le punta un coltello alla gola e la tiene segregata per due giorni. I carabinieri scoprono la vicenda dopo l'allarme lanciato dai vicini. La provincia. Tutti i dirigenti rinunciano al premio. Questo è il caso in provincia di Chieti. E poi il sisma di Amatrice. Umberto, 77 anni, non ce l'ha fatta e è morto nell'ospedale Tatino dopo 22 giorni, aggravando così il bilancio delle vittime. Sono state due ieri le vittime, purtroppo, che non sono sopravvissute al terremoto e siamo a quota 297. La pagina di Lanciano Vastortone. Il nuovo ospedale non è una chimera. L'annuncio del sindaco Menna per quanto riguarda Vasto. Importanti passi in avanti e una svolta epocale. I prossimi mesi saranno cruciali. Si apre la partita più delicata. Cedere il sito del Sampio per far cassa e pensare ad un'altra struttura a Pozzitello. Ma scoppia il caso Amato. La parlamentare del PD mette il dito nella piaga della sanità locale. Casoli dopo Cometa chiude pure progetto meccanica. 23 dipendenti dell'indotto Honda sono rimasti senza lavoro. Nentre ad Atessa la Sevel festeggia 35 anni con gli operai. Nel taglio basso chiese lo stop dei lavori condannato caporale. Il consigliere comunale aggiuta sempre a favore dei cittadini. Truffa i danni della Fiat con danne ridotte. Andiamo adesso sulla pagina di L'Aquila. Bollette a consumo. Lira del sindaco. Il primo cittadino contesta duramente il nuovo metodo. Per chi abita al piano terra sarà un vero salasso. Critiche al centro-destra. E una mossa politica sulla pelle dei cittadini che sono in grossa difficoltà. Il sindaco dice il comune in credito di oltre 5 milioni per il gas non pagato. Allora, questa è la polemica che riesprode nuovamente all'Aquila nel progetto case. Tra i morosi ci sono professionisti, medici e professori universitari. Ancora, l'avvertenza esplode il caso dei lavoratori delle pulizie. Rischia il licenziamento per 28 persone. De Santis e dell'IDV lancia l'allarme. E l'amministrazione che deve risolvere questa incresciosa situazione. E poi, minacce e botte all'avvocato Verini da Alessandro Sottoprocesso. E nel taglio basso, parapiglia a scuola, sei ragazzi denunciati al liceo musicale. Provvedimento a carico di quattro minori e due maggiorenni. Sempre dall'Aquila. Entro fine mese partono i lavori in via Aldomoro. Si metterà finalmente riparo al dissesto della sede stradale che da tempo crea disagi dopo il crollo di un muro di sostegno. E nel taglio basso, oggi in campo per la solidarietà, ricordando Lorenzo Sebastiani, mentre all'auditorium del parco ci sarà il chitarrista spagnolo Espi. E per quanto riguarda la polizia, Capasso da Teramo passa ad essere dirigente della mobile aquilana. Ed ora la pagina di Avezzano Sulmona. Santa Croce deve consentirci l'accesso. L'Ogli, vicepresidente della giunta regionale, attacca. Il bando è pronto. Se serve entreremo con l'ausilio delle forze dell'ordine. Il patron Colella replica da oltre un anno. Aspetto che si rispetti la sentenza del Tarra, che è chiarissima. Andiamo a vedere proprio la conferenza stampa di ieri. La Regione Abruzzo annuncia un nuovo bando per la produzione nello stabilimento di acque minerali Santa Croce. Nel bando è presente anche la clausola del mantenimento del livello occupazionale di almeno 50 unità. L'accordo è stato raggiunto attraverso un tavolo sindacale tra Regione, Sindacati e Comune. Ad oggi però la Regione ancora non è rientrata in possesso del canale di adduzione idrico allo stabilimento. Dopo ripetuti solleciti alla proprietà, il vicepresidente della giunta Giovanni Lolli annuncia maniere forti se la situazione non si sbloccherà. Manca un'ultima condizione, e cioè la condizione di accessibilità per noi, naturalmente, ma poi anche per chi vorrà eventualmente partecipare alla parte di proprietà regionale di tutto quell'impianto. La parte di proprietà regionale è l'adduzione, cioè tutto quanto sta tra la sorgente e lo stabilimento che è di nostra proprietà. Attualmente questa parte è inaccessibile perché naturalmente è chiusa ed è chiusa perché deve essere chiusa ovviamente per ragioni di sicurezza. E noi sono già quattro lettere che facciamo all'attuale gestore perché ci renda accessibile questo bene, che è una delle condizioni del bando. Finora tutto ciò non è stato reso possibile. Io mi aspetto che adesso venga reso possibile. Se così non dovesse essere noi dovremmo procedere attraverso l'autorità giudiziaria. Andiamo nel lettera a mano adesso leggendo le pagine interne della città. Allarme in tilt, pericolo, bomba a Teramo, Atria e Sant'Egidio per quanto riguarda le poste. Il problema è l'allarme scattato alla centrale delle poste a Pescara che ha allertato la polizia postale di verificare l'anomalia nei tre uffici del Teramano. Nel taglio basso Castagna entra nel comitato ristretto dei sindaci al posto di Roseto. A Teramo il pavimento del corso non sarà monocolore. L'assessore fracassa tranquillizza sul progetto. Sbagliata la cromia per una sola fornitura di pietre. Nel taglio basso da un palazzo si sgancia una lastra di travertino. Di fronte alla vetrina di un negozio non passava nessuno. I pompieri transennano l'area. Le scuole non è affatto vero che va tutto bene. Questo pomeriggio la protesta silenziosa del comitato dei genitori che chiedono edifici sicuri. Dunque ancora polemiche a Teramo per quanto riguarda le scuole. Poi terremoto, inagibili altre tre abitazioni nelle frazioni sgomberate due case a Castagneto e un'altra a Villaripa. Alla fine il Braga va al parco della scienza. Dopo mesi di polemiche l'istituto accetta temporaneamente la sede provvisoria proposta dal sindaco complice il terremoto. Dunque si risolve così una polemica andata avanti per settimane. Andiamo a vedere insieme il servizio di Elisa Leuzzo. L'istituto musicale Gaetano Braga di Teramo, dopo le numerose polemiche, ha deciso di accettare la proposta del comune di Teramo che ha offerto il parco della scienza quale sede temporanea dell'istituto musicale vista l'inagibilità post-sisma del comi e della sede storica. In questo momento è l'unico tetto che ci può soddisfare, che può essere un tetto sopra la nostra testa. Rischiamo la chiusura del conservatorio, l'ordinanza è stata notificata. Purtroppo questo terremoto ci ha colpito duramente, sia la sede istituzionale di Piazza Verdi, che è chiusa, praticamente deve essere chiusa, e sia la sede di Via Comi, nella quale svolgevamo attività didattica, che purtroppo è stata chiusa anch'essa. Quindi in mancanza di alternative non vediamo altra soluzione. È una questione di emergenza, dobbiamo traslocare, voi non avete idea, quante carte, quanti libri, quanta storia, 120 anni di storia sono a Piazza Verdi, per cui realmente è una situazione di grandissima emergenza che dobbiamo tamponare. Al Parco della Scienza Spazio ce ne metteremo lì tanta roba. Una soluzione tampone per consentire all'Istituto Musicale di non perdere la continuità didattica in vista di un ritorno nella sua sede storica. Piazza Verdi tornerà ad essere la casa del Braga, ha garantito il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Ed ora passiamo allo sport, andando a vedere la pagina dell'Abruzzo Sport del centro. Sfida doppia, Oddo Pescara. Non cambio, ce la giochiamo a testa alta contro la Lazio, l'allenatore, il grande ex di questa partita. Non dimentico il mio passato. L'anticipo, il tecnico conferma tutti, difende Ghiomber e ammette. Aquilani non è pronto. Baebec e Coda non convocati, restano a casa. Vi ricordo anche che ieri nell'anticipo il Milan ha battuto la Sampdoria per 1-0. Prima di ascoltare le parole di Massimo Oddo nella rituale conferenza stampa prepartita, andiamo a vedere anche la rivalità tra le tifoserie. C'è la carica dei 1.500 pescaresi all'Olimpico. Il match è ad alto rischio. reso noto un percorso consigliato. I biancazzurri saranno scortati dalla polizia nella Lazio Biglia fuori. Inzaghi pensa al 3-5-2 e a parole dolci per l'amico Oddo. Andiamo a vedere anche le probabili formazioni alle 18. Arbitra Maresca di Napoli. Il Pescara dovrebbe scendere in campo con Bizzarri tra i pali, Biraghi, Ghiomber, Campagnaro e Zampano in difesa. Memushai, Brugman e Cristante a centrocampo. Verre e Benali a supporto del falso 9 Caprari. Mentre la Lazio dovrebbe rispondere con Marchetti in porta. Bastos, De Vrai e Radu in difesa. Felipe Anderson, Parolo, Cataldi, Milinkovic e Lulic a centrocampo. Davanti Giorgevic e Immobile. Questo per quanto riguarda la formazione di Simone Inzaghi. Andiamo ad ascoltare dunque il tecnico Oddo. Tutti sanno che ho passato 5 anni con questa maglia, ne sono stati il capitano e quindi ovviamente c'è un legame tra me, la mia persona e la Lazio. Ma questo è inevitabile e quindi certamente è una partita che non è come le altre. Il rapporto con Inzaghi, come erano giocati? Ma ottimo, un amico da sempre, lo conoscevo anche prima di andare alla Lazio. Quindi è un grande amico, abbiamo fatto più o meno anche lo stesso percorso. Lui ha allenato qualche anno in più nel settore giovanile, ma lui ha sempre sognato di fare quello fin da quando era giocatore. E quindi si sapeva benissimo, chi non lo conosceva sapeva benissimo che il suo obiettivo sarebbe stato quello di allenare. A posteriori avrei fatto magari un altro cambio, ma in quel momento era il cambio migliore possibile da fare. Perché in quel momento io ho pensato, vincevamo, gestione della palla è lungo per Bybeck. Chi meglio di Aquilani? Però evidentemente poi quando fai un cambio si fa sempre un cambio per cercare di apportare modifiche positive. Non sempre si risponde per quanto uno richiede, ma ci sta, questo fa parte del calcio. Io sono straconvinto che quello che abbiamo fatto in queste partite è un lavoro fatto per bene. Dobbiamo continuare su questa squadra. Per la lunga ci possiamo togliere tante soddisfazioni e con il tempo, con l'esperienza, con un pizzico di fortuna in più, certamente continuando a fare quello che stiamo facendo continueremo a divertirci, continueremo a divertire la gente che ci vede e cominceremo a fare anche tanti punti. Scendiamo in Lega Pro perché oggi gioca anche il Teramo dopo la bufera in settimana con l'allenatore Zauli esonerato e il DS Lupo cacciato dalla società. Oggi si gioca, scrive la città, Teramo ricomincia da zero. Alle 16.30 al Mazzola e Biancorossi iniziano un nuovo percorso, potremmo dire una nuova stagione, ma i problemi restano comunque tanti per la formazione guidata dal neoallenatore Federico Nofri. L'esordio del tecnico avrà il compito di dare un obiettivo a breve termine a questa squadra per evitare che il campionato sia senza aspirazioni come quello appena passato. L'11 di oggi Carraro dovrebbe essere dirottato sull'out sinistro davanti Jefferson favorito su croce al fianco di Sansovini e dunque la prima di Nofri sarà con il 4-4-2 Carcalis al posto dell'assente Dorazio. Abbiamo praticamente già detto la formazione, comunque la leggiamo. Rossi tra i pali, Scipioni, Caidi, Speranza e Carcalis in difesa. Petrella, Bulevardi, Peterman e Carraro a centrocampo. Jefferson e Sansovini dovrebbero formare la coppia d'attacco per quanto riguarda il Teramo. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro per andare a vedere le altre notizie. La serie D, i creditori battono cassa a Chieti, c'è l'incubo del fallimento. L'Aquila invece domani va a Rieti con Pepe, un nutrito seguito di tifosi. L'Aquila anch'essa in questa settimana coinvolta da problemi legati ad un'inchiesta della Guardia di Finanza su IVA non versata da parte della società. Sono quattro gli indagati per quanto riguarda questo episodio. San Salvo contro il paterno c'è Pifano, oggi l'anticipo di eccellenza d'Avezzano. Rinforzi anche per Penne Miglianico in promozione due vittorie a Tavolino. Questo per quanto riguarda il campionato regionale dei dilettanti. E poi volley abruzzese in festa con il presidente Magri. Domani a Montesilvano la manifestazione regionale col vertice nazionale della FIPAV. Di Camillo vogliamo essere una regione competitiva per dirigenti tecnici ed atleti. Il basket di A2 Roseto e Progerchieti in campo, oggi Sharks in casa le 17 contro la Virtus Roma e Teatini ad Ancona. Il rugby, le elezioni in FIR, Gavazzi Innocenti rese dei conti al fattore il Memorial Sebastiani. Nel taglio basso l'Atletica brillano la Montanaro e la Di Cesare, i campionati regionali allievi e cadetti di Sulmona. Buoni risultati nei lanci e nella velocità e per la mezza maratona macchia ottavo agli assoluti juniores. Questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di TV6, con il TG6 delle 14 e poi quello delle 19 e infine l'edizione della notte alle 23, mentre Mattino 6 torna lunedì alle 7. Grazie ancora, buona giornata e buon fine settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.